Buongiorno, grazie a tutti i nostri amici e a tutti i nostri amici e a tutti i nostri esporti e sono sicuramente vitali, non vogliono ieri per finire un'altra volta il momento in cui lo viene e dobbiamo uscire questo prossimo che dimostrano a noi o a noi o a noi o a noi o a noi possano amare questa identità di soli, questa realtà che fa la caccia. Noi stiamo sforzandoci per differenziare un po' quello che è la logica, la probabilità, la caccia, la caccia, magari in alcuni momenti può sopra la caccia, no? che si privilegia un investimento importante di miglioria per il nostro senso produttivo e per questo scegliamo un po' di più, scegliamo un po' di più, lo sviluppo di questa società che è la loro economia è molto più importante di avere la loro stagione, magari per la caccia di loro, ci sarà da sopravvivere un po' di più, ci siamo, ci siamo impegnati, magari a qualcosa ci siamo pagati per bene a sopravvivere e perciò diciamo che ci auguriamo di sopravvivere per bene a sopravvivere e per le nostre stagioni, però con questo tipo di investimenti secondo me si duderà anche chi ci sottiene, come tutte le persone che sono presenti qui perché devono essere orgogliose, è una società che deve diventare un modello che si è data per investimenti, grazie e buona visione, buona visione, buona visione, buona visione, buona visione Grazie